Amici della Slive, l'avrete già riconosciuto, ha vestito qualche maglia in Italia su tutta quella del Parma che spicca ovviamente anche per i successi ottenuti. Parliamo dell'allenatore Lamouchy, fino all'altro ieri lo vedevamo con gli scappini da calcio, oggi un nuovo ruolo per lei. Le chiedo innanzitutto, chi Verona ha visto? Un Verona che giocava l'ultima partita di Amichevole, secondo me pronta per iniziare una bella stagione. Dopo quando io mi ricordo che i ritiri in Italia sono pesanti, quindi tre settimane qua, hanno lavorato tanto, sono sicuramente contenti di tornare a casa e di iniziare il campionato. Ecco, lei che ha giocato in Italia, secondo lei il campionato italiano di oggi è più importante o meno rispetto ai suoi tempi? No, non c'è neanche paragone. Il miglior giocatore al mondo giocavano in Italia, adesso non è il caso, però rimane sempre un campionato difficile, interessante e bello da vivere. Verona che partita con il 4-3-3, poi 4-3-1-2 nella ripresa, con il trequartista dietro ai due punti, Tony Pazzini. Secondo lei possono coesistere queste due prime punte insieme? Secondo me sì, è stata una bella scelta di prendere Pazzini e Luca Antoni ha fatto una nata straordinaria l'anno scorso e gli auguro di fare la stessa cosa. In ultimo le chiedo, vedere il suo Parma ridotto come è ridotto adesso? È un dispiacere immense, purtroppo è finita come è finita, mi dispiace molto, tantissimo, perché ho tanti amici lì e purtroppo è così. Grazie a tutti.